Una giornata storica per il Comunità di San Giovanni Appilo, a cui vengono riassegnate le 5 pere di Legambiente, il Touring Club per il mare più bello. Inoltre salutiamo un'altra novità inaspettata ma graditissima, quella della copertina della Guida di Repubblica che ritrae il pianore di Ciolandre, per vedere le quattro regioni da cui noi possiamo spaziare dalla Campania fino allo Stromboli in Sicilia.